Nell'anno di Capitale della Cultura, Pesaro ospita per la prima volta CUM Festival, una rassegna giunta all'ottava edizione dopo le sette precedenti tenutesi alla mole vanvitelliana di Ancona. La kermess diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati e coordinata dal filosofo Federico Leoni si terrà da venerdì 5 a domenica 7 aprile fra Teatro Rossini, Sperimentale, Palazzo Ciacchi e Musei Civici. Tema scelto per questa ottava edizione è La vita della scuola. Saranno tre giorni in cui, come di consueto nel Festival CUM, Massimo Recalcati, direttore artistico, chiama una serie di figure della cultura, della scienza, della pedagogia, della psicologia per discutere in maniera trasversale su questo grande tema, quello della scuola, quello dell'educazione, quello di cosa significa essere un maestro e ricevere un insegnamento al giorno d'oggi. Un'opportunità preziosa perché poi i progetti che coinvolgono anche gli studenti, da protagonisti sono quelli che lasciano più il segno, che lasciano più il segno nelle coscienze, nella costruzione di percorsi culturali, ma soprattutto creano anche quello scambio tra le generazioni e tra le esperienze e le conoscenze che è fondamentale se, come è vero, il progetto di Capitale della Cultura vuole andare a trovare anche una nuova idea di cultura senza accontentarci solamente delle forme classiche e consolidate, ma anche capire con le nuove generazioni cos'è fare cultura e cosa serve alle nuove generazioni rispetto all'approccio al mondo culturale. CUM Festival si propone ogni anno come un cantiere fucina d'idea alla presenza di 40 ospiti per 30 incontri che spazieranno da Edoardo Albinate, Anna Liso Cuzzocrea, da Enri De Luca, Teresa Forcades. Dialoghi elezio magistralis per indagare il ruolo della scuola nel panorama contemporaneo. Diciamo che il Festival CUM nasce come un festival che si occupa del concetto di cura. Ogni anno si affronta un argomento in maniera trasversale, dalla scienza fino alla cultura, all'arte e via dicendo e però dopo la pandemia Massimo Recalcati con Federico Leoni e con tutto il team e il comitato scientifico del Festival CUM ha pensato che fosse necessario dedicare una serie di appuntamenti annuali ai grandi temi che riguardano il nostro paese e ha voluto iniziare simbolicamente anche significativamente con il grande tema della scuola perché se non si affronta il tema della scuola all'interno di un paese parlare di ripartenza quando si ragionava dopo la pandemia e comunque parlare di sviluppo in qualche modo e di sostenibilità di un paese diventa impossibile.